Due cose, uno ringrazio la Nord meravigliosa perché ci siamo sempre atenti, questa è la vittoria delle tre parti, la società e non in questo ordine, i tifosi, la squadra e la società. Queste tre sono variabili, vanno tutte nella stessa parte, fanno un grande campionato, siamo una grande squadra con un grandissimo carattere, quindi grazie a la Nord che per 90 minuti ci ha sostenuto, anche nei momenti difficili, adesso il giorno stava arrivando, meraviglioso, strafittoso, grazie mille. Di controparte, eravamo in pochi oggi, 1600 persone con la parietà così sono poche e quindi quei 3.000-3.500 di pavie di Novara che si fanno partite del genere, che non solo con Bassano o le volte buone, mi dispiace molto, cavolo di loro sinceramente posso dire, che non vedono queste parietà buone, queste sono le parietà che tant'è la maglia, tant'è la squadra e mi dispiace moltissimo, perché oggi ci sono poche persone, degni assolutamente, l'ho già detto, persone meravigliose con quelle che ci hanno detto, anche perché allora, benedetto spezzatino, perché se la domenica alle 14.30 ci sono 1600 persone, allora giochiamo pure a me e non facciamo la minite e le varie, perché non è il caso di farne. E poi, adesso non mi ricordo tutte le persone, oggi è il giorno dei morti, un ricordo affettuoso, le persone che ci hanno lasciato in questo anno, le persone care, i tifosi, il tifoso dei parterre, del gruppo di sogno di Dioriglio, Mike Leone, la settimana scorsa, la mamma del nostro ragazzo del settore giovanile, altre persone che sicuramente non mi ricordo, il padre di Gerpoluzzi, tutte le persone che ci hanno lasciato in quest'anno. Un pensiero loro al nostro giorno, sono contento che sia finita così la partita, perché non mi ritroviamo, è giusto, perché quando sono a vincere, è giusto. Grazie.